Il FESTIVAL Qual è stato un grande punto nella tua vita che hai vinto il FESTIVAL? Era la cosa più fantastica che voi avete vincito il FESTIVAL di Sanremo? Sicuramente sì, era uno dei sogni che noi volevamo raggiungere, però non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Sicuramente era molto importante che abbiamo vincito il FESTIVAL di Sanremo, ma non è un punto di partenza, è un punto di partenza per altre cose migliori. Come conosciute voi in Italia? Ci sono persone che conoscono come Alice o Umberto Tozzi, o è una nuova face in Italia? Chiedi se voi siete conosciuti come Alice e come Umberto Tozzi o se siete totalmente nuove per il pubblico italiano. Adesso per il pubblico italiano c'è stato un boom eccezionale con fiumi di parole. Piano piano faremo conoscere anche il nostro album che si chiama Il Cerchio Magico del Mundo. Quindi in Italia è diventato uno slogan. Stiamo cercando di portare il nostro messaggio musicale anche in Europa, quindi anche all'estero. Certo, questo sarebbe molto conosciuto anche con il nostro album che si chiama Il Cerchio Magico del Mondo, che significa in inglese il magico del mondo. E quindi stiamo cercando di portare e promuovere questo album in tutti i paesi in Europa e nel resto del mondo. È una buona cosa per l'Italia di essere in Eurovision? O perché l'Italia ha partitato durante i tre anni e ora l'Italia è tornata? È un po' 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 e sono contenti di essere qua per rappresentare l'Italia al Festival dell'Eurovisione perché sono tanti anni che l'Italia non partecipa. Cosa ne pensate di questo? Noi siamo grati della nostra vittoria e della RAI che ha deciso di organizzare e quindi di far partecipare l'Italia. Siamo onorati di poter rappresentare anche l'Italia e di poter portare in questo momento la nostra musica quindi magari anche quello che è il pensiero degli italiani, quello che è musicalmente il pensiero degli italiani in Europa. Quindi poi se non è stato fatto negli anni scorsi, non so per quali siano state le cause. In questo momento noi siamo orgogliosi di portare la musica italiana in Europa. Ovviamente siamo molto orgogliosi di portare la musica italiana all'Europa e all'interno del mondo. E' anche se non è il nostro problema, se la televisione in Italia per molti anni non broadcaste l'Eurovision Song Festival. Perché questa è ovviamente una decisione che RAI deve fare. Ma per quanto riguarda Gialisa, sono orgogliosi di poter partecipare e di rappresentare l'Italia in questa competizione. L'Italia ha un ruolo preferito questo anno. Sono molto orgogliosi e quante chancesi hanno? Siete fra i favoriti di questo festival. Che cosa pensate delle vostre chance? Guarda, io non ci voglio nemmeno pensare perché come dicevo anche prima sono molto scaramantica. Meglio pensare agli ultimi posti che pensare ai primi. Quindi come abbiamo fatto a Sanremo che eravamo degli outsider, persone proprio che assolutamente non si pensava che vincessero Sanremo. Meglio pensarlo anche qui. Scaramanzia. Sono molto superstituzione e così è Fabio ovviamente. Quindi non vogliamo pensare a quale sia l'esercito. Vogliamo pensare che come nel festival Sanremo eravamo completamente gli outsider e poi vengono. Sentire che c'è interesse verso di noi da parte di tutti i paesi ci dà sicuramente una grande carica e una grande forza per poter fare ancora meglio il nostro lavoro. Cioè ti carica come quando sei su un palco, sei on stage, per poter dare sempre il più e il massimo. Ovviamente il fatto che i nostri colleghi pensano che potremmo essere uno dei favoriti, eccetera, ci dà una grande energia. È come essere on stage in un concerto. L'energia è lì perché sentiamo che ovviamente tutti ci dà un grande supporto. Grazie. 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 Grazie.